Allora, cosa pensi di questo momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle? Sì, posso sapere come sto parlando? Sono Dino Giarusso delle Iene, tu sei? Gianni Girono Sei un senatore Scusa? Sei un senatore? Sì Allora, mi piacerebbe sapere cosa pensi di questo momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle? Ma è una domanda un po' generalità Non è un momento un po' particolare perché c'è stato delle espulsioni, c'è chi parla di rischio e scissione? Ma guarda, io e te ci parliamo per la prima volta oggi, giusto? Sì, per la prima volta Io sono senatore come tutti da un anno e otto mesi Mi piacerebbe sapere da voi perché in questo anno e otto mesi non mi avete mai intervistato su questioni di lavoro Da noi Iene Sì, perché agli italiani delle vicende che sono interne al Movimento credo non interessi nulla Agli italiani gli interessa la creazione di posti di lavoro Io mi sto battendo da un anno per una stabilizzazione di una detrazione fiscale che porterebbe centinaia di milioni di posti di lavoro Quindi mi piacerebbe sapere perché non mi chiedete l'opinione su questo Perché non viene stabilizzata questa detrazione fiscale che viene rinnovata di anno in anno Non dando la possibilità alle aziende di programmare i loro lavori a medio e lungo termine Queste sono le cose che agli italiani interessano Delle vicende interne normalissime che vengono in ciascun partito Agli italiani giustamente non interessa perché sono cose interne Adesso ti spiego Siccome noi siamo come sai un programma che fa informazione e intrattenimento Non siamo un telegiornale, non siamo un quotidiano, non siamo nemmeno Report O Michele Santoro che fanno informazione in maniera un po' più tradizionale Noi cerchiamo sempre di fare o di scoprire magagne come abbiamo fatto con la macchina di Marino Per esempio che sembra che non interessa invece è una cosa che ha interessato molto La popolazione perché abbiamo scoperto delle cose non proprio carine da parte di questo sindaco Oppure cerchiamo di raccontare la politica in maniera abbastanza giocosa Allora ti spiego qual è la ragione per cui ti ho fatto una domanda introduttiva La ragione che stiamo sentendo alcuni tuoi colleghi deputati Abbiamo fatto molti deputati e ci piacerebbe fare anche alcuni senatori Stiamo immaginando di fare delle primarie all'interno del Movimento 5 Stelle Perché? Perché Beppe Grillo ha detto prima o poi questo movimento dovrà camminare sulle proprie gambe Io mi dovrò diciamo allontanare dalla guida del movimento Adesso recentemente ha detto sono un po' stanchino E ha nominato questi 5 esponenti come possibili coordinatori Chiamiamoli così c'è chi ha parlato di direttorio Non so se la parola direttorio è simpatico o meno simpatica Ha detto sono stanchino come Forrest Gump Ha proposto alla rete queste 5 persone Allora noi che facciamo un po' di goliardia Se segui le Iene immagino che tu lo sappia Premesso che sarei ben felice che ci sia una deteriorazione fiscale Perché anche io sono una partita IVA Però ci piacerebbe se puoi, se ti va come hanno fatto molti i tuoi colleghi Che tu votassi per uno di loro Abbiamo preparato una scheda Una scheda elettorale La mia schiena è la cabina elettorale E questa è l'urna Vedi l'urna delle Iene Sono come delle primarie È un gioco Tu puoi starci o no Puoi votare la scheda bianca Puoi votare uno di questi 5 E questa è la ragione per cui noi stiamo facendo un servizio su questo Poi sulle cose interne della politica A meno che non si tratta di cose epocali Di solito le Iene non se ne occupano Magari se ne occupa il telegiornale Se ne occupa Piazza Pulida Se ne occupa Forse non devo fare i nomi di programmi di televisione concorrente Io vi ringrazio per l'opportunità che ho avuto Di ribadire ancora una volta una questione seria Gli italiani mi hanno mandato qui per fare cose serie Non per giocare L'elezione di queste 5 persone volute da Grillo Serve per aiutare l'organizzazione del movimento Non ci sarà nessuno di questi 5 Che avrà una posizione predominante rispetto agli altri 4 Per cui questo gioco io vi ringrazio È un'iniziativa Ma comunque è un gioco Io invece sono qui per fare cose serie Ok Allora cosa fai? Voti scheda bianca? No, non voto proprio Non voti proprio Non voto perché è un'iniziativa vostra Non è un'iniziativa nostra Certo Senti, vuoi mandare un messaggio a Beppe? In questo momento Visto che ha detto che lui è un po' stanchino Beppe non ha bisogno dei miei incoraggiamenti Nella mia solidarietà Io Beppe lo ringrazio con i fatti Tutti i giorni lavorando E ringraziandolo per l'opportunità Che lui ci ha dato come catalizzatore Perché noi ricordiamo che è stato un catalizzatore Che ha saputo prendere la rabbia di tantissime persone La rabbia accattamenti se l'avete stata dispersa O utilizzata in maniera persa E invece convogliarla sul movimento che è proattivo Adesso noi siamo qui Stiamo facendo molte proposte concrete Mezz'ora fa avete visto la catalfa Ha proposto il regno di cittadinanza finalmente Che permetterà di non essere più schiavi delle assunzioni Questa è un'altra cosa che io sto portando avanti Per creare posti di lavoro Quindi lo ringraziamo con i fatti E poi tu la preferisci non votare Non ti posso convincere E' un'iniziativa vostra Io sono qui per fare le cose E' un'iniziativa vostra Che avete tutto il diritto di evitare E di fare Ma non è il mese di ottobre Che condivido Il giorni Girotto Girotto Sceglie di non votare Quindi io piego la sua scheda E la metto come scheda bianca Non è una scheda bianca E' un non voto E' un'astenzione di Girotto Grazie a tutti